E' meglio andarci piano con queste cose. Funziona. Segnale ottimo! Inniscate gli altri detonatori e tornate qui! Forza, eroe! Dobbiamo far saltare questo ponte! Daz, attivate le altre cariche! E per quei roi... Lascia il pegger! Piazziamo le cariche! Seguimi! Armiamo le cariche! Si stanno avvicinando! Oh, baci! Quella è l'ultima, Daz! Tutti dietro quelle barriere! Il ponte sta per saltare! Forza, supervisore! Sblocca il tappieri! Non sbogliare! Rispettare la proprietà pubblica! Se non ci lasci detonare quelle cariche tra 5 minuti di un prezioso centro tappi Finirebbe la ricerca! La torre, Daz! Sali lassù e fai esplodere! Finalmente! Avanti, soldato! Eliminiamo la batteria! Doctever, perciò il tappi! Vedazio, ponte, accettato! Buon viaggio! Carico è pronto! Sììììììììììììììììììììììì! Cambio munizioni! Oh no! I Covenant atterrano dalla parte opposta del muro! Cacciatoni! Phantom in arrivo! Qui c'è un problema! Dazio, dobbiamo tenere lontani camera da quelli di qui! Cacciatoni! Mangia quei f***i! Cacciatoni! Stai rovinando il paesaggio! Lo fai! Dersai tu distrutto! Cacciato! Ottimo lavoro! Ha 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 ha! Oh! Adesso ti insegno come combattono i grandi! Il nemico ti è infuriato! Oh! Sei morto! C'è di vita, abbiamo vinto! Oh! Per un pelo! Abbiamo spazzato via quei punti! Amico, queste sono delle scuolarette! Squadre! Sì, la scuola! Vedete la posizione! L'edificio Oli va protetto! Oh! 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 Non startene l'imbalato! Aiutami a trovarlo! Sono contento 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 che ne vediamo uno. Addio mio. Respira ancora. Era bene, è morto. Andiamo alla mia spiaggia. Tutti sull'ascensore! Le cariche piazzate nel condotto spazzeranno via l'edificio. Bene, ci siamo. Mandatemi i codici di detonazione. Voglio essere io a far esplodere questo posto. Verranno a prenderci sul tetto. Da dove sono sbucati questi insetti? Le gallerie sotterranee sono infestate da quei mostri. Ecco un buon motivo per far esplodere l'edificio. Tirano altri scocciatori. Ho fatto un po' di scocciatori. Ho fatto un po' di scocciatori. Ho fatto un po' di scocciatori. Se i Covenant vogliono questo edificio, io dico che se lo prendano. Quiet, Mickey. I'm trying to fight. Ho fatto un po' di scocciatori. Ho fatto un po' di scocciatori. Ho fatto un po' di scocciatori. O è stato un po' di scocciatori. Questa a cappare un po' di scocciatori. Prendi questo. Ecco il nostro mezzo. Via, via! La conoscete un certo sergente Buck? Come no? Te lo passo! Per fortuna siete ancora tutti interi. È bello risentirti. Serve un passaggio? Volentieri, grazie. Siamo alla centrale di polizia. Vuoi portarci là? Affermativo! Bene, ci vediamo in cima. Cosa? Questa giornata non è tutta da buttare! Qua è?